è un Milan che con Ibra, senza Ibra, in ogni caso comunque vince sempre, quindi è primo con 5 punti di vantaggio, vola. Siccome c'è chi, l'abbiamo sentito poco fa, si lamenta perché non c'è Barella, Santa Polenta, senza Barella come fa l'Inter, ma cosa deve dire il Milan senza Ibraimovic, senza Kier, senza Ben Nasser, con tutti questi infortunati, ciò nonostante ha dimostrato di supplire a queste assenze, vincendo una partita, lottando, non giocando benissimo, ma dimostrando tanto carattere. Ma Sampdoria-Mila non è decisiva, Inter-Shaktar è decisiva. Sì, decisiva, però devi entrare nell'ordine delle idee, che se ti manca un giocatore devi cercare di avere all'interno della tua struttura un sostituto, e lì sta nell'abilità dell'allenatore trovare il sostituto, anche di un giocatore cardine, come il Milan l'ha trovato senza Ibraimovic, il Vidal è fuori, il Vestino è fuori, sempre derby. No, 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 ma loro fanno le battute di spirito e fanno vittimismo, invece bisogna sapere di un certo tipo di situazione, non c'è Barella, il giocatore è importante, e allora devi trovare una soluzione, a due minuti dalla fine della partita, dicendo che hai comprato un grande campione, era scritto sui giornali, le dichiarazioni erano queste, ma dai, Basu, andiamo. Era un grande campione, Eriksen, poi all'Inter si è perso. Gioca a due minuti, a due minuti dalla fine della partita, non è colpa di una qualsiasi della partita, è già la terza quanta volta. Sì, terza quanta volta. Eh, bravi, bravi, no, no, vabbè. Eh, ti tocca subire, Filippo, comunque. No, subire cose, scusi. Eh, Galvaneggiano. Scusa, quando è arrivato Eriksen, senza giocatori importanti sono avanti i cinque punti. E poi, vabbè, può succedere di tutto. E secondo me, il Milan, no, no, nel senso, e ci mancherebbe altro, stai parlando della capolista. Allora, visto che, insomma, le grandi squadre non si fermano al risultato, all'attualità, cercano già di lavorare per il futuro, prima di arrivare a parlare del Milan di adesso, andiamo a vedere cosa sta cercando di creare il Milan per il futuro. Maldini scatenato oltretutto, Milan è penalizzato dall'aver perso Chiari, sembra per un mese, no, Tiziano, più o meno? Dovrebbe averlo. Dovrebbe averlo. Dovrebbe averlo. Quindi cerca fortemente un centrale difensivo, già da un po', il sogno Milenkovic della Fiorentina, però sarebbe vicinissimo a Kabak dello Schalke 0-4. Attenzione, per la punta, il vice Ibra, sono quattro i giocatori su cui si sta cercando di vedere, di verificare se uno di questi può essere portato a Milano. Manzukic, Jovic, Mariano Diaz e Lucas Vasquez, che piace in particolare proprio a Paolo Maldini. Il Milan ha dimostrato che certe scelte non si sono rivelate pari alle attese. Rebic, che molti hanno giudicato, gli ha dato un voto di sufficienza per l'assist che ha fatto a Castiglieco, mi ha sbagliato quattro gol, la posizione è proprio elementare. Rebic doveva essere la punta, era Leao che è infortunato anche lui, ma Rebic doveva essere la punta in sostituzione, in attesa che possa rientrare Ibraimovic. Ha giocato di punta, si è dato da fare, ha lavorato, si è sacrificato per l'amore del cielo, ma ha sbagliato quattro gol. Non ha ancora fatto un gol lato avanti. Cioè il Milan, che ha il secondo e terzo attacco del campionato, senza Ibraimovic, sono andati a rete tutti gli altri, eccetto Rebic e anche Cialanoglu, che però ha segnato cinque gol in Europa League. Quindi il Milan, che è riuscito con un certo tipo di gioco, grazie all'allenatore e allo staff dirigenziale che hanno fatto certe scelte, di supplire a queste mancanze e di riuscire a ottimizzare dall'organico a disposizione. Il Milan, signori, ha chiuso la campagna acquisti di quest'anno con un più 22 milioni. Sì, sì. 22 milioni. Che rispetto a tutti gli altri è tanta roba. Non è il vice Ibra però, Rebic non è il vice Ibra, Rebic si esalta se c'è Ibra. Tutto quello che vuoi, tutto quello che vuoi. Non vuoi chiedere alla luna. Lui ha giocato punta centrale.